bello ragazzi benvenuti a questo nuovo video io sono Andrea e benvenuti a questo nuovo video in questo video ragazzi vi devo dire una cosa assurda ho risolto il problema delle live su youtube e in pratica già da domani o domenica potrò iniziare a fare le live quindi state sempre attivi perché può essere che tra domani e domenica inizierò a fare live nel mio quarto canale quindi ci divertiremo insieme faremo un sacco di cose insieme speriamo bene ragazzi ci vediamo domani e vi farò sapere su quello che devo fare e niente ragazzi comunque questo è il tempo di quante ore mancano a fare le live sul mio quarto canale di youtube e mancano solo 24 ore quindi speriamo che domani ce lo fanno fare dai ragazzi vi terrò informati bella grazie a tutti